Allora, adesso ai nostri microfoni c'è Giovanni Tedesco, giocatore dell'OS Giri Falco, piazza San Rocco, che oltretutto abbiamo visto è anche lo sponsor della squadra, lo sponsor della squadra. Di mestiere è un medico, è un oculista, e allora viene in questo campionato amatori per puro divertimento, giusto? Divertimento mi piace vincere, quello è il mio problema. Ah vabbè, questo qua c'è un... non è un decubertiano, l'importante è partecipare, per il dottore è importante vincere. Comunque avete una bellissima squadra, molto ben quadrata, molto tecnica, con un attacco abbastanza sostenuto anche in difesa. Tu giochi? Centrocampista, sempre fatto il regista di centrocampo. Ho sempre giocato in campionati, sempre in professionisti, però quando mi sono scritto poi in medicina ho dovuto abbandonare il calcio. Ecco, mi diceva il mister che molti di voi hanno calcato campi superiori, categorie superiori. Ho giocato nella Vigor Lamezia, nel Canzaro e poi nel Real Canzaro, campionato interregionale. Quale anno? 1993. Poi ho dovuto abbandonare. Nella Vigor Lamezia in... Vigor Lamezia c'era allora la mister sia Nicolino e prima Scozza. Quindi c'era delle donne, ma se... Io ero capitano della primavera e mi allenavo con la prima squadra. Benissimo, benissimo. Anche domanda... Questo girifalco dove vuole arrivare. Noi cerchiamo in tutti i modi di ambire al primo posto. Siete primi in classifica e diciamolo, dai. Il problema no, sono i cali di tensione. Anche l'altra partita, Pianopoli... Nel secondo tempo c'è stato un calo di 15 minuti. È come se perdiamo calma e sicurezza con la palla tra i piedi. Quindi poi, anziché organizzare un'azione di gioco, buttiamo palla in avanti. Quindi, anziché mantenere il possesso palla, magari cerchiamo delle sortite in avanti, ma senza accompagnarla... Prossima partita? Prossima partita mi pare che siamo con Amato. Io non ci sarò perché gli impegni di lavoro mi interiscono di venire. Allora, la ringraziamo, auguri a voi per il prossimo campionato. Un saluto a tutti, grazie.